Spiagge italiane sempre meno libere, sempre più occupate da lidi e stabilimenti, lo dice l'ultimo report di Lega Ambiente Rapporto Spiagge 2021. Per l'Associazione Ambientalista urge tutelare coste, paesaggio e turismo. Continua a crescere il numero di spiagge in concessione in Italia, tanto che in molti comuni è oramai impossibile trovare uno spazio dove poter liberamente e gratuitamente sdraiarsi a prendere il sole. Lo dice l'ultimo report di Lega Ambiente Rapporto Spiagge 2021, che scatta una fotografia aggiornata e dettagliata dei lidi italiani con dati e numeri alla mano, facendo il punto anche su nodi risolti, questioni ambientali da affrontare ed esperienze green che arrivano da stabilimenti e amministrazioni che hanno deciso di puntare sulla sostenibilità ambientale. Non esiste una norma nazionale che stabilisca una percentuale massima di spiagge che si possono dare in concessione. Alcune regioni sono intervenute fissando percentuali massime, ma poche sono quelle intervenute con provvedimenti davvero incisivi e con controlli a tutela della libera fruizione. Tra i casi legislativi virtuosi si trova la Puglia, che da 15 anni, grazie alla legge regionale Minervini, ha stabilito il principio del diritto di accesso al mare per tutti, fissando una percentuale di spiagge libere pari al 60%, superiore rispetto a quelle da poter dare in concessione, circa il 40%. In realtà sono pochi, i comuni costieri pugliesi, che hanno dato seguito all'applicazione di questa legge e adottato il rispettivo piano comunale delle coste, tanto che la regione Puglia è dovuta intervenire negli anni successivi attraverso il commissariamento di 25 comuni costieri su 67. In alcuni casi si è andati anche contro la stessa legge. A Monopoli, ad esempio, è stato deliberato che le concessioni non sarebbero state cambiate, lasciando la situazione con molto più del 40% di costa bassa, occupato da circa 30 stabilimenti. Allo stesso modo, seppur stabilito dalla legge, gli accessi al mare non sono stati rispettati, in quanto, anche se virtualmente una spiaggia risulta libera o nel tratto della percentuale del 60%, di fatto gli accessi vengono sbarrati dai proprietari delle terre e trasformati in luoghi privati. Una situazione denunciata da Legambiente nel tratto costiero tra Polignano a Mare e Ostuni, dove il fenomeno si è intensificato negli ultimi anni. Una buona pratica di gestione della costa riguarda invece il parco regionale Isola di Sant'Andrea e il litorale di Punta Pizzo a Gallipoli, in provincia di Lecce. In base allo studio di fruizione promosso da Legambiente Gallipoli, sono state utilizzate e palizzate in castagno come struttura di difesa dall'erosione marina e accumulo del trasporto eolico per il ripascimento spontaneo del piede dunare e graticiate sui versanti per la stabilizzazione del sedimento, previsto anche un imponente ripristino vegetazionale sul nuovo profilo e all'interno dei campi dunari.